Si è tenuto in videoconferenza l'incontro convocato dal prefetto di Salerno, Francesco Russo, del tavolo di coordinamento per discutere su emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare all'ordine del giorno era la ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado a partire dal primo febbraio scorso, disposta dal presidente della regione Campania con ordinanza 3 del 22 gennaio 2021. Presenti alla riunione il presidente della provincia di Salerno, i sindaci dei comuni di Salerno, Agropoli, Amalfi, Angri, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sala Consilina, Sapri, Sarno, Scafati e Vallo della Lucania, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, il rappresentante di Anci Campania, il dirigente generale dell'ASL e le aziende di trasporto della provincia. Abbiamo fatto il punto della situazione, dichiara il presidente della provincia strianese, per gestire le eventuali criticità e capire l'andamento dopo la ripresa della didattica in presenza avviata il primo febbraio scorso. È fondamentale muoversi in sinergia per coniugare le esigenze dei due comparti, scuola e trasporti, e coordinare al meglio gli orari d'ingresso uscita dagli istituti scolastici con gli orari dei servizi di trasporto implementati da ulteriore corse aggiuntive. Soprattutto è necessario evitare assembramenti massima attenzione, quindi nelle aree a maggiore rischio in prossimità degli istituti scolastici, per favorire l'ordinato afflusso e deflusso degli studenti. È importante il senso di responsabilità da parte di tutte le componenti istituzionali, sottolineo che per ora l'orientamento è quello di salvaguardare la didattica in presenza il più possibile. Per i nostri studenti si tratta di un momento molto atteso, che rappresenta un primo passo verso il ritorno alla socialità e a uno stile di vita più normale. Ma per tutelare questo percorso bisogna attivare un monitoraggio stringente e in caso di rischio concreto, i dirigenti scolastici sono autorizzati a dare indicazioni precise di interruzione della didattica in presenza. La salute e la sicurezza di tutta la comunità scolastica, che include anche le famiglie, sono una priorità.